E' pentito e molto rammaricato per il suo gesto, un'azione violenta scaturita per la difesa dei suoi affetti familiari. Antonio De Angelis, il 28enne di Mercogliano, arrestato dai carabinieri per il tentato omicidio di Adriano Guarnieri, ha risposto alle domande del GIP che lo ha interrogato per la prima volta dopo il fermo a 24 ore dalla sparatoria avvenuta tra sabato e domenica nel centro Tucca di Avellino. Il giovane, al fianco del suo avvocato Gaetano Aufiero, ha spiegato nei minimi dettagli quanto accaduto sabato sera Un'ora prima dell'aguato, suo fratello minore è stato picchiato dal trentenne di Atripalda, addetto alla sicurezza del bar Ultrabit, locale della movida giovani lavellinese. Guardieri, per motivi ancora poco chiari, avrebbe dato uno schiaffo al fratello di De Angelis. Venuto a sapere dell'aggressione, il 28enne, preso dall'ira, si è armato di pistola e come una furia, è andato a dritto all'Ultrabit per ferire l'aggressore del fratello. L'intento era quello, non di certo di ammazzarlo, così ha detto al giudice quando è stato interrogato. Effettivamente, Guarniere è stato colpito nel basso ventre, il proiettile ha perforato una parte d'intestino ed è fuoriuscito dalla parte alta del gluteo. Il giovane si trova ricoverato al Moscati di Avellino, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. Il giudice, invece, si è preso del tempo per decidere sulla misura cautelare dell'aggressore. Intanto l'episodio ha inquietato molto la città di Avellino. Il prefetto, Paola Spena, si è interessato al caso, anche perché lo stesso locale era stato già in passato, teatro di altri episodi legati alla criminalità. Il consigliere comunale, Francesco Iandolo, invece ha puntato il dito contro l'amministrazione sorda rispetto a questi problemi, ha detto.